Qualcuno di loro, i capi, stavano sempre fissi al Caffè de Paris via Veneto, dove mangiavano, bevevano. Si vestono con le migliori marche. È un patrimonio che loro hanno potuto accumulare negli anni. Ma lo mettono dentro i tubi, hai sentito? Dentro, dietro i muri. Voi siete entrati in quelle case, no? Con la polizia cine, i stipidi delle porte lo nascondono ovunque, ma soprattutto lo reinvestono. Non ci dobbiamo far fregare dal colore, dal fatto che sembrano dei fenomeni da baraccone. Il folklore, no? Loro gestiscono un imperio economico. Del resto, una delle loro principali attività è l'usura, che la puoi esercitare solo se hai un'immensa liquidità. E loro hanno invaso Roma di soldi. Sostituiscono le banche. Loro c'è un'agenzia di servizi. Un'agenzia di servizi, nata con la banda della Magliana. Assolutamente sì. Ecco, allora, però...